Casella numero 19. Stiamo tornando a casa, stiamo concludendo piano piano il nostro viaggio di consapevolezza che ormai lo sappiamo sarà semplicemente poi da ricominciare più e più volte nel corso della vita o meglio ancora da mantenere vivo nel corso di tutto il nostro tempo e di tutta la nostra esistenza. Ma cosa accade al personaggio della fiaba quando ritorna a casa? Ritorna diverso, spesso non viene riconosciuto, spesso è una o uno straccione, viene scambiato per qualcun altro perché non ha più tutti quegli orpelli e tutti quei gusci che la vita solitamente ci chiede di portare. È più leggera, è più leggero, vada molto di più all'essenziale, è una persona semplice, è una persona profonda, è una persona saggia, è una persona che sa cogliere che cosa è importante e cosa no e se nella fiaba sarà destinata a essere regina o ad essere re sarà una regina o un re giusto perché saprà vedere con profondità e con infinita lucidità gli accadimenti della vita, ciò che saprà sempre dividere, scegliere tra ciò che conta davvero e ciò che no, ciò che è essenziale e ciò che è superfluo, secondario o addirittura tossico. E allora forse le due parole che porto oggi sono proprio profondità e concretezza perché è una profondità che poi non diventi una modalità di scelta delle cose della vita, di ordine con cui armonizzare le cose della vita, è una profondità che serve poco perché è importante essere profondi, è importante spogliarsi da ciò che è inutile, superfluo o dannoso, ma poi questo deve portare alla concretezza, del saper regnare nel proprio regno, qualsiasi sia il nostro castello, qualsiasi sia il nostro regno, il nostro destino. E allora proprio pensando ai personaggi delle fiabe dovremmo accettare forse di non essere immediatamente riconosciuti dagli altri, forse qualcuno addirittura non ci vorrà più o ci allontanerà, non è certo quello che ci auguro, ma dopo un viaggio di espogliazione e attraversamento chi non cerca quel tipo di vita, chi non vuole quel tipo di profondità o forse addirittura lo teme non ci guarderà immediatamente con favore, non comprenderà immediatamente il perché di questi nostri abiti stracci o di questi nostri movimenti e modalità buffe, strane, fuori dalle righe. In fondo il filosofo che sceglieva una scuola nell'antichità era atopos, senza luogo, usciva dai luoghi abituali e faceva una scelta diremmo forse oggi controcorrente. Beh è il tempo di farlo, credo che il risveglio spirituale, la rivoluzione spirituale che vogliamo vedere accadere o che abbiamo già messo in atto penso che meriti di vestire anche un po' di stracci e va benissimo così. A domani.